allora ragazzi stiamo sempre con il nostro iphone vecchio cioè praticamente l'iphone 7 plus che è un qualcosa di orribile cioè proprio un telefono che si rompe subito con dei problemi di audio appena mi mandano l'aggiornamento si è rotto il telefono quindi è secondo che cambio è secondo è secondo questo qua che mi hanno dato è secondo ma lo devo cambiare quindi è veramente una ruina questo invece iphone che c'ho purtroppo è caduto dal primo piano qui in modo violento e funziona ancora questo è l'iphone 4s però comunque funziona ancora integro allora ragazzi abbiamo fatto il nostro stampo in resina questo è il primo stampo in resina come vedete è venuto bene però in resina non lo faccio più a prescindere fatto che ho consumato quasi 12 kg di resina e quindi il pezzo è diventato veramente molto pesante quindi resina anche il viso e i due pezzi che poi andranno assemblati lì e poi comunque si deve assemblare tutto logicamente si deve assemblare si deve sistemare ma con la resina così non lo faccio più anche se la resina rapida allora lo stampo si è praticamente rotto quindi devo rifarlo cosa che è un qualcosa di tragico proprio rifare un'altra volta lo stampo non solo l'aspirazione di tutti questi vapori cioè diretti proprio nel mio naso potete dire potete mettere una maschera antifumo però vi garantisco a 100% che noi che siamo un po' artisti quando abbiamo quella vena creativa praticamente non ce ne frega un cazzo di niente di niente allora abbiamo l'abbigliamento addosso e facciamo con l'abbigliamento basta che quella vena artistica che sta uscendo dentro di noi praticamente ci fa dimenticare tutto il resto e quindi automaticamente cioè io mi sono sentito proprio male perché tutti questi vapori perché la resina rapida è bella perché è rapida impiega 10 minuti è ok però comunque lo stesso si doveva fare gioco e si doveva fare uno strato quindi non è che se ne va un bicchiere ne vanno diversi bicchieri e quindi immaginate il peso eccessivo della struttura con la resina all'interno e i vapori che mi sugavo onestamente non è che voglio prendere un tumore per fare anzi già è rischioso con quello che ho fatto che anche fumo le sigarette quindi già potrei prendere già adesso un tumore però comunque non assolutamente non lo farò più in resina e farò con il plastoforma quindi al limite farò di tutto per dare una forza possibile immaginabile a tutto il resto come vedete qua ancora devo fare la copertura perché comunque adesso il pezzo va va aggiustato va ti devono fare tutti i lavori comunque va aggiustato il pezzo quindi automaticamente non l'ho fatto ancora e quindi voilà e questo è quello che vi volevo dire adesso questo qui lo facciamo verde malachite verde malachite con la base sotto sempre verde malachite qua facciamo verde malachite oro voilà voilà ragazzi quindi le prossime sculture saranno saranno in plastforma plastforma andiamo molto più leggero senza vapori senza rischi mortali senza peso mi sono distrutto le braccia mi sono buttato via un pantalone e una camicia perché mi è andato a finire senza che me ne accogessi la resina addosso sui calzini sulle scarpe buttato pantalone scarpe moquette braccia che non sono veramente distrutte graffi da tutte le parti quindi personalmente no mi sono veramente distrutto però comunque con questo devo incominciare a recuperare soldi almeno degli stampi quindi ci si aggiusta al massimo e si vede un po quello che si deve fare ok ragazzi allora alla prossima lasciamo così io vi continuo il video non vi faccio vedere la trasformazione ve lo farò vedere direttamente terminato ok e quindi poi la per la vi spiego tutte le cosettine ciao ciao a tutti cosa vuoi allora ragazzi oggi iniziamo a trasformare il nostro pezzo quindi ho deciso di fare questo breve video allora questo pezzo è venuto un po diciamo difettato però comunque alla fine non è un difetto perché è adesso bisogna terminare il lavoro quindi alla fine non non si può dire che è un difetto quindi fin quando viene aggiustato sempre all'origine che viene aggiustato allora non è un difetto è un continuo della scultura quindi oggi quello che noi andremo a fare sarà la prima cosa in assoluto dovete potete levigare allora io vi consiglierei sempre di utilizzare questi tipi di di strumenti non questo non compratelo io ne ho cambiati quattro ho fatto anche furbo nel senso che le ne che prendevo lo scatolo nuovo e mettevo il vecchio ma tutti e quattro sono praticamente inutili perché dopo un po si rompono immediatamente che devi mandare a centro assistenza quindi io questo Dremel proprio Dremel originale non ve lo consiglio proprio ho comprato questo qua che ho pagato 50 euro con tutti i suoi accessori 45 e sono due anni non lo voglio dire perché quando poi dici una cosa praticamente si rompe quindi per il momento sono due anni che funziona e quindi l'abbiamo detto ma sicuramente non funzionerà più però comunque l'abbiamo detto in confronto a questo Dremel che è originale fa cagare questo fa proprio cagare allora la prima cosa io vi consiglio quando fate queste cose le sculture quindi avete tolto il calco eh dal dalla 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 vostra dal moulage quindi dal contenitore quello che io vi consiglio è di levigare tutto perché vedete queste queste parti qui se non le togliete vi squartano le mani vi giuro che vi squartano le mani questo vale per la resina vale per il gesso vale per qualsiasi cosa che voi andate a mettere la primissima cosa dovete levigare e toccare con le mani così voi vi rendete conto dove ci sono i difetti per poi aggiustarli però la levigazione è la primissima cosa da fare perché a meno dopo avete la possibilità di prendere il pezzo in mano senza squattarvi le mani perché vi giuro che vi fate male fate dettagli che sono anche permanenti quindi eh levigare levigare normalmente si levica eh in questo caso la resina andremo a prendere questo tipo di questo qua che praticamente levica un amore quindi andiamo a levigare i bordi in modo che non ci tagliamo sicuro poi dopo passate a a ad inserire eh le parti che voi avete fatto a parte in genere in una scultura la scultura si scompone sempre le braccia si fanno a parte i piedi si fanno a parte viso e compagna varia si fanno a parte semplicemente perché è più facile dopo il distacco della resina e quindi si procede al montaggio quindi eh dopo quest'operazione dovete seguire praticamente il montaggio quindi noi in questo caso qua dopo l'operazione che abbiamo fatto di levigatura e eh diciamo aggiustare tutte le parti che sono difettose quindi per esempio in questo qua in questo caso qua è un po' più alto quindi andremo a levigare poi ci sta il buchino qua e quindi andremo andremo a mettere eh la resina per coprire lo stucco quindi qua per esempio si nota un avvallamento e quindi andremo a mettere la 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 resina la resina solida la stessa cosa qui vedete sono arrivato in questi punti qua che era impossibile quindi devo adesso ricostruire con la resina solida quindi dopo aver fatto questa operazione che eh questa operazione potete passare al montaggio dei pezzi il montaggio dei pezzi va fatto sempre in modo molto semplificato per esempio per farvi intendere a voi adesso dopo noi non andremo a montare la parte di sotto la parte di sotto andremo a montare alla fine eh no andremo a montarla all'inizio scusatemi vedete voi perché vai a montare all'inizio la parte di eh di di sotto perché montando la parte di sotto io posso fare la colla la collatura di resina che mi può bloccare questa parte al pezzo quindi con la collatura di resina si riempie tutto tutta questa parte qui e mi blocca questa parte finale al pezzo poi il viso andremo a montare alla fine perché così io ho la possibilità di inserire con un bicchiere la resina stesso da qua ma non solo ho anche la possibilità di capire come devo mettere una staffa all'interno per far fare in modo che il pezzo venga sollevato sul piede questo qui è abbastanza pesantuccio per il momento ma ora diviene ancora più pesante con la collatura che noi andremo a fare quindi eh bel lavoraccio allora iniziamo e ciao ciao a tutti vi faccio vedere praticamente il lavoro terminato in parte e poi lo andremo a pittare a decorare non so ancora come lo voglio fare questo tipo qua stamattina sono andato a comprare tutto il silicone che mi serve per fare un'altra volta la parte della facciata che purtroppo ahimè si è rotta quando sono delle piccole fessure ok potete prendere quel silicone che vi ho fatto vedere l'altra volta nel tubetto però eh purtroppo eh quando si rompe proprio così in modo in modo eccessivo non c'è niente da fare quindi bisogna bisogna rifarlo a meno la parte là perché la parte dietro risulta risulta bene allora quindi iniziamo praticamente il nostro lavoro a più tardi ciao Grazie per la visione!